Una mafia moderna, ben organizzata, capace di ricorrere alle tecnologie più sofisticate e all'occorrenza di regolare i conti con la forza delle armi, è il quadro della criminalità organizzata in Puglia emerso dalla Due Giorni Barese della Commissione Parlamentaria Antimafia, presieduta dal senatore Giuseppe Pisano. In una regione come questa, che è forse la più vitale, la più dinamica economicamente del Mezzogiorno, e che proprio per questa sua vitalità attira interessi criminali non solo italiani ma anche stranieri. Una criminalità che, secondo Pisano, ha scelto la via dell'inabissamento facendo tacere il più possibile le armi e favorendo gli affari penetrando nel tessuto economico attraverso il consenso, spesso consapevole della cosiddetta borghesia mafiosa. Dalle audizioni dei procuratori distrettuali antimafia di Bari e Lecce, Antonio Laudati e Cataldo Motta, è emersa la geografia criminale della regione, con le zone di criticità come quella del Gargano, dove la criminalità assume le caratteristiche di vera e propria mafia, o come il Salento, dove forti sono gli interessi dei capitali sporchi negli impianti fotovoltaici. Essendo la Puglia la regione italiana che ha la più alta percentuale della potenza installata nel settore dell'eolico, e avendo tutte le mafie italiane, tutte, prestato grande attenzione a questo settore, sarebbe impensabile che si fossero distratte soltanto in Puglia. Si registrano prevalentemente in Salento le infiltrazioni mafiose nel settore delle energie rinnovabili. Il distretto di Bari, infatti, sembra almeno per ora non avere indagini di questo tipo. I pubblici ministeri parlano solo quando hanno acquisito la prova dei fatti. Al momento non c'è prova di questi fatti.